Devo ammettere che la tua ipotesi dei memi mi intrigano un poco. Penso che dovremmo esaminarla più da vicino. Tu hai scrupoli etici riguardo alla sperimentazione sugli esseri umani? È una delle poche forme di interazione con la gente che non trovo ripugnante. Bene. Allora propongo di inventare un ghiotto comunicato di gossip. E un secondo pettegolezzo meno interessante per sviare l'attenzione. Poi ne seguiremo la diffusione nel gruppo e ne interpreteremo i risultati attraverso i principi di teoria memetica, di gossip algebrico e di epidemiologia. Sei piena di risorse? Adesso mi fai perfino appassionare le scienze sociali, eh? Sei davvero una vecchia volpe, eh? Mi farà fole.